Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi abbiamo il piacere di presentare il Festival Matildico Internazionale che si terrà a San Benedetto Po dal 20 al 22 settembre del 2024 e abbiamo il grande piacere di avere con noi l'ideatore, la mente, l'organizzatore insomma tutto quello che c'è dietro il Festival che è il professor Paolo Golinelli che io ringrazio tantissimo e al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli un po' di questa nuova edizione del Festival Matildico. Prego Paolo, a te. Sì, grazie Maurizio. Questo è il terzo Festival Matildico, il primo l'abbiamo fatto a Quattro Castella, il secondo a Reggiono e qua siamo andati dall'Emilia alla Lombardia, scelta di San Benedetto Po perché in concomitanza nel 2024 ci fu la canonizzazione di San Simeone che è un santo che è lì presente ancora col suo corpo, non incorrotto, sono rimaste solo le ossa, però è una presenza notevole ed è importante perché è la seconda canonizzazione nella storia dovuta a un pontefice che è Benedetto VIII il quale su richiesta di Bonifacio di Canossa che è il padre di Matilde che mandò una letta di canonizzazione del santo, dice se è così di splendidi miracoli come il vostro uomo che è la geografa che aveva scritto la vita, il vostro uomo ci ha detto allora trattatelo come un santo e quindi è la prima canonizzazione pontificia, i processi di canonizzazione arriveranno dopo due secoli e mezzo, quindi è un'anticipazione molto interessante eccetera soprattutto interessante perché c'è l'intervento di Bonifacio di Canossa che fu certamente un personaggio piuttosto discusso anche nei rapporti con le chiese, il cui è strano che lui si sia mosso allora questo ci porta a riflettere anche sulla santità e quindi non una visione utilitaristica della santità quasi che sia usato dagli potenti ma anche una santità che impronta la vita delle persone appunto come nell'alto medioevo e anche nel periodo matildico, siamo ancora in un momento allora ci ha fatto riflettere sui santi dei Canossa che sono veramente tanti ho organizzato una mostra ecco quindi ci sarà una mostra di pannelli e anche di oggetti, di manoscritti veramente devo dire di facsimili di manoscritti perché i nostri mezzi sono abbastanza limitati però sarà interessante vedere almeno una ventina di santi che entrarono in contatto con Matilde ma con anche Beatrice, con Bonifacio di Canossa, con Adalberto Atto e quindi tutta la dinastia dei Canossa il festival naturalmente è composto di diverse manifestazioni comincia al venerdì con la presentazione di questa mostra e quindi l'illustrazione anche di tutti i materiali raccolti poi alla sera faremo un'intervista impossibile a Matilde di Canossa nella chiesa di Quingentole vicino, sempre inoltre a Poma Antovano, molto vicino al monastero di San Benedetto e poi al sabato avremo questo convegno internazionale con la presenza anche di colleghi da diverse parti di Europa, all'Università di Bonne il professor Riversi che è un nostro grande sostenitore e poi addirittura da Houston nel Texas abbiamo una persona che si è laureata proprio sull'entourage di Matilde di Canossa e anche sui Santi e parlerò di Ida di Bologna che era cognata di Matilde di Canossa quindi è un rapporto con anche l'Europa centrale che in genere viene trascurata dagli studi locali insomma ecco il convegno durerà tutta la giornata poi alla sera ci sarà invece una rievocazione storica ad opera dei ragazzi della parrocchia che quindi renderanno così un po' anche popolare questo incontro con la canonizzazione di San Simeone alla domenica invece avremo al mattino un dibattito come sullo scrivere e narrare di Matilde con diverse autrici di romanzi storici tra virgolette, altre volte sono solo fantasy su Matilde di Canossa e poi invece nel pomeriggio diciamo che tutto il paese si animerà perché avremo come sempre accade in queste situazioni gli antichi mestieri portati da un gruppo di ricostruttori che sono di Villa Impenta si chiamano gli artigiani di Matilde e quindi erano questi banchetti come sempre in queste situazioni e poi avremo anche gli sbandiratori con un gruppo che viene da Quattro Castella quindi è un insieme di cose addirittura a mezzogiorno a luna avremo un pranzo offerto quindi anche a tutti i partecipanti dal consorzio del radicchio tipico veronese quindi vedete che andiamo tra la montagna, la collina emiliana, la pianura lombarda e anche veronese Matilde è veramente un personaggio che si espande molto ecco e c'è anche una parte europea e internazionale per cui spero proprio che il festival abbia un successo insomma di pubblico come anche gli altri precedenti e beh ma io non ho dubbi che andrà benissimo speriamo che in queste cose anche il tempo ha la sua componente non me ne parlare perché noi veniamo da un evento cancellato quindi è una ferita ancora aperta da pochi giorni l'8 di settembre abbiamo dovuto cancellare un evento bello ma comunque vabbè è andata così io invece invito tutti quanti a visitare il sito dell'Associazione Matildica Internazionale dove troveranno il programma completo di tutte le iniziative che si terranno appunto a San Benedetto Po dal 20 al 22 settembre del 2024 ti ringrazio tanto per se mi permetti no? che per molti io sono stato nei giorni scorsi proprio perché mi sto preparando alla casa all'editrice Gabrielli di Verona però le persone non erano mai state a San Benedetto cioè San Benedetto Po è una sorpresa per chiunque ci arriva e quindi ricordiamo a tutti di andare a San Benedetto Po soprattutto per scoprire questo luogo meraviglioso e partecipare così a questa terza edizione del Festival Matildico Internazionale le date sono dal 20 al 22 settembre e io ringrazio tantissimo l'amico e professore Paolo Golinelli per averci concesso questa intervista a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sui nostri canali YouTube dove troverete tutte le nostre videopresentazioni alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti